Io sono un militante del centro-sinistra, io ho sempre militato da questa parte e l'impegno fondamentale è affinché il centro-sinistra non sia un sistema di potere come tutti gli altri, ma sia un luogo di elaborazione di progetti di cambiamento, sia un luogo che dia veramente speranza ai cittadini. La politica fa schifo, questa è la percezione che hanno la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne, la politica sembra la processione di coloro che fanno le trame, gli intrallazzi, i compromessi deteriori, ecco il centro-sinistra non può rassegnarsi a questa dimensione livida e repellente della politica, il centro-sinistra soprattutto oggi deve costruire una politica di fronte a un paese che soffre, di fronte a un'Italia che si sta schiantando, quindi noi abbiamo bisogno della coesione del centro-sinistra e di un leader del centro-sinistra che sappia battersi in Puglia e a Roma per difendere i pugliesi e oggi i pugliesi, diciamo così, sono a rischio anche per le scelte che il governo nazionale sta compiendo.